Ben trovati in RATG della Mobilità. Bartedì al Via e Lavori per completare lo snodo tra Metro B e Metro C nella stazione Colosseo. Dal 19 aprile al 4 giugno la tratta Castro Pretorio-Laurentina terminerà alle 21 e il collegamento sarà sostituito dalla navetta Bus MB. Nei giorni 24, 25 e 30 aprile e il 1 maggio la Metro B sarà attiva sull'intera linea. Il cantiere terminerà il 30 giugno. Isola Pedonale anche nella giornata di domani in Via dei Fori Imperiali con la chiusura della strada. Le linee Bus seguono percorsi alternativi e sempre domani le ZTL di Centro, Tridente e Trastevere resteranno aperte per tutto il giorno. Grazie.